Spostate il corpo di Cristo dalla sommità della croce fino ai suoi piedi. Fatelo scendere, perché Cristo lo vogliamo vivo e non un Cristo crocifisso. Vieni, Gesù, incontra i tuoi figli, scendi dall'alto della tua croce, immergiti in questo bagno di folla, perché sei il compagno di tutte le nostre giornate, sia il fratello di tutte le nostre sofferenze. Con pietà, con dolore, rappresentando il dolore di tutti noi, portatelo all'incontro con sua madre. Gesù, mei ulcian defunto in sosprazzo di Maria, che lo è te... che la rotta, con dolore, che la rotta, con dolore, che la rotta, con dolore, è grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti